Buongiorno a tutti, ci ritroviamo anche questa mattina per il nostro appuntamento che ormai volge al termine. Oggi diamo un'idea, un'idea nuova sullo spirito. Dice che lo spirito rende giovani. Ecco, noi dobbiamo puntare sempre di più alla giovinezza dello spirito e anche se abbiamo qualche acciacco, qualche acciacco nel corpo ma anche qualche acciacco nello spirito, la giovinezza ci crea quel senso di vita, quel colore, quella voglia, quell'entusiasmo che ci spinge a ricercare. Ripercorrendo gli ultimi giorni abbiamo visto lo spirito come viaggio ma non vacanza, lo spirito su una barca mossa dalle onde, lo spirito incontrando uomini e donne sulla nostra strada, anche quelle che non vogliamo. Oggi lo spirito dell'essere giovani. Ripercorrendo gli billionali. Grazie per la visione!